Preside, sono tre gli indirizzi all'Istituto Alberghiero, Cucina, Ricevimento e Sala e grazie anche all'impegno del corpo docente è stata completamente rinnovata la reception della scuola proprio per rispondere a una delle mission dell'Istituto stesse. Ragazzi possono sperimentare il lavoro e quindi fare una sorta di allenamento in itinere nel corso di studi. Certo, sicuramente l'Istituto provvede all'accoglienza, alla sala e alla cucina quindi prepara i ragazzi a far sì che siano maturi in questa attività e acquisiscono competenze e a proposito mi sono attivato per rinnovare la prospettiva, l'estetica, quello che serve a far sì che l'Istituto possa dare l'immagine di un istituto alberghiero. Abbiamo acquistato dei banner, abbiamo fornito l'accoglienza di strumentazioni tutto ciò che serve per dare un'immagine positiva dell'Istituto. La reception dell'Istituto Alberghiero cambia look con la finalità di accogliere nel miglior modo possibile in maniera sempre più gradevole tutti coloro i quali entrano in questo istituto. Sì, continuiamo il nostro rinnovo dei laboratori, oggi abbiamo concluso con l'attività di accoglienza turistica cerchiamo appunto di accogliere i prossimi turisti, i nostri futuri turisti nel migliore dei modi appunto grazie anche all'interesse dei nostri insegnanti di accoglienza il professore Sigone e la professoressa Carnatella abbiamo completato il look del nuovo laboratorio. È un modo davvero molto singolare e che è attinente alle finalità di questa scuola entrare ed essere accolti da studenti che già cominciano in un certo modo ad entrare in quella che è l'ottica della vita professionale futura. Guardi, noi siamo appena ritornati a fare un orientamento scolastico quello che noi diciamo sempre ai ragazzi che vogliono iscriversi da noi è vedere l'Istituto Alberghiero come se ci trovassimo all'interno di un albergo con i tre settori di appartenenza ovvero accoglienza turistica, enogastronomia e sale vendita appunto accogliere chi viene giornalmente da noi nel migliore dei modi e come prepararsi per il futuro.